Nel nido delle serpi del Grande Fratello, si respira un'atmosfera surriscaldata pronta a esplodere. Oggi, vi introdurremo nel tumultuoso conflitto che ha scosso le mura della Casa di Cinecittà, mettendo in scena il turbolento confronto tra Beatrice Luzzi e le altre concorrenti, un evento che ha fatto vibrare i corridoi della dimora televisiva. È una tempesta di gelosie, critiche, e colpi bassi pronti a minare le fondamenta della realtà. Preparatevi a prendere un profondo respiro, perché ci immergeremo nell'epicentro di questa tempesta emotiva. Benvenuti su Reality Italiano, la tua finestra sul mondo delle notizie e del gossip più intrigante. Dopo il rovente scontro con la temibile Rosicin durante una diretta del Grande Fratello, Beatrice Luzzi è diventata il bersaglio delle giovani concorrenti. Ma qual è la ragione di tutto ciò? Le «pungenti parole» di questa talentuosa attrice sembrano aver innescato un terremoto di emozioni tra le mura della casa più celebre d'Italia. Rosicin non ha esitato a scagliare feroci critiche sul comportamento di Beatrice, e presto si sono unite a questa «caccia alle streghe» le giovani Anita Olivieri e Letizia Petris. In un momento di confidenza, quest'ultima ha svelato, ieri ero seduta sul divano, lei si è accomodata accanto a me e mi ha chiesto un consiglio. Essendo sua amica, questa mattina ho condiviso con lei ciò che Beatrice mi aveva detto, con buone ragioni. Mi ha sorpreso il fatto che cercasse il mio parere, poiché ciò significa che le sta a cuore. «Credi che Beatrice stia incarnando il ruolo di Eva la cattiva di Eva Bonelli?» Ma Rosy non è stata da meno nella competizione verbale. Con un tocco di ironia, ha rivelato, a lei dà fastidio che io sia amichevole con tutti, vero? Si avvicina a me e chiede, «abbiamo risolto, vero?» Poi ha visto che dopo la puntata mi sono nuovamente irritata a causa di alcune sue affermazioni che non mi sono piaciute. Se volete rimanere aggiornati sulle vicende dei reality, lasciate un like al video e iscrivetevi al nostro canale. Anita Olivieri ha condiviso il suo punto di vista, dichiarando, «Anche con me ha fatto lo stesso, ma io le ho detto ieri, ok, facciamo chiarezza, ma vediamo quanto dura. Non voglio litigare, quindi ho posto fine alla questione. Io smetto, ma lei continua, la tensione è alle stelle nella casa del grande fratello. e Beatrice Luzzi è al centro di una tempesta di polemiche. Sarà in grado di sopravvivere a questa burrasca di ostilità? O continuerà a essere l'oggetto dello scandalo nella casa di Cinecittà? Restate sintonizzati per scoprire come si svilupperà questa incandescente storia». Grazie. Grazie. Grazie.